Buongiorno a tutti e ben ritrovati e buon Genshin venerdì. Allora, mi siamo un po' stancato di aspettare gli artefatti, no? Quindi cosa ho deciso? Ho deciso che per il momento farò investimenti sicuri e magari divertenti e porterò su alcuni pc e per fare questo significa dovrò spendere le resine in maniera diversa. Caspita, tantissimo che non vengo qui da quando appunto ho portato su giungli. Quindi ci avete presente quando vi dico non divideremo le forze, ci impegneremo su questa cosa qui? Ecco, no. Adesso porteremo su quanti più pg possibili, anche in termini di amicizia. Sarà Lucky Rosaria? Le prime 40 resine se ne vanno per un drop mega minimo. Rosaria, non farai mai più niente, mai più. Tranne che adesso ti ascendo. Thank you, Rosaria, per il wish. Speriamo che porti qualcosa di buono, tipo due costellazioni. Oh, Mona. Mona è una delle mie preferite, sono stato felicissimo di trovarla da quando c'è stato l'evento della patch 1.1. Allora, e ci diriciamo a un'altra parte, sempre con lo stesso team, a fare qualche altro boss. Possiamo fare... non vado da Oceanid, da quando c'è stato l'evento di Andorra. E prima di lì, da quando ho portato su Barbara. So, so, sono milioni di anni fa. Mi ricordo, ero giovane. C'era tutta campagna qui intorno. Non c'erano tutte queste macchine che giravano. Al solito portavo Fischel qua. Però adesso ho fatto un team, diciamo, spiccio. Un team. Tiriamo via. Guarda, sono cresciuto, non sono più quello che bullizzavi. E papere. so che poi va meglio di anni so che puoi essere un challenge come on come on non voglio che il video troppo wow questa è dura del ranocchia chi c'era giù è l'estrema difficoltà di questo boss che devi fanco quanto c'è quanto discori per questo che abbiamo solo quattro personaggi acqua perché di più sarebbe stato difficile lo sopportare i ferrets ho preso un po' di danni sempre il tasto l non mi ricordo mai così guadagniamo amicizia ho fatto rifare rosaria sempre una mega 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 minima e schifosa eh rosaria I know I know dovevo fare la L e se ne sono andate tante resine poi portiamo su ovviamente sucro quindi noel sucrose noel sucrose mona e e quell'altro che porto su non veramente volevo oh mio dio si è suicidati che scena allora rosaria sucrose noel no 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 rosaria per ora no mona sucrose noel e cazzo alexa stop oh yes mona tu che sei povera e mi capisci quindi perché che io sono povero trova a me qualcosa che valga la pena per 40 resine no mona ecco c'è questo non sarebbe neanche male è un po' più di minima come sapete abbiamo bisogno dei cristallini verdi allora l'arcipelago andiamo qua boh io speriamo che me la cavo non Prendiamoci questo. Nessuno morirà con l'aiuto di Cici. Du botte ragazzi, refullato completamente. Chiudo che vi dica, eh perché Cici è il male. Oh cazzo. Mi rimangio tutto quello che ho detto. Quanto dura pochi scusi del mio shonglu. Mona, ti prego, fammi capire che hai capito. No Mona, non ci siamo proprio. Per fortuna qui ce n'è tre, qui c'è un ciancotto. Però no, 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 no. Cioè a roba vento a me mi serve. Perché me dai a roba ghiaccio? Che c'è no troppa. Allora vediamo un po'. Mona, potrei portarla. Eeeh. Liberlarla brutta. Troppo spreco. Bene. Poi, poi, poi. Su Cruz. Vediamo un po'. Ancora non abbiamo abbastanza. Domani. Vediamo, vediamo, vediamo. A te ci bastano i materiali. Oh yes. Oh yes. Abbiamo detto Noel. Vedete come vanno su? Materiali, soldi, tutto. Eh, Noel pure qualche giorno deve aspettare purtroppo. Bene bene così. Abbiamo fatto i nostri ciretti, le nostre spese. I mora vanno su, i vari materiali vanno su. Eh, portiamo su pure. Farò una build di Katsua un po' a cazzo. Come artefatti. Sto portando inizialmente tutto il 4. Poi porterò tutto all'8. Eh. Hai fatto un roll che non è vergognoso. Complimenti Katsua. Non c'ho qualcosa di meglio. Allora mettiamo Elemental Mastery. Con il Viridescent. Qua roba di venti non si tocca. Questo non ce l'ha, non ce l'ha. Ah, questo c'è Energy Recharge. Questo Desucrose non si tocca. Vediamo cosa esce fuori male che va. Poi lo ricicliamo. Questo che era? Ce n'era un fiore buono. No, c'era il coso. Il Goblet. Perché questi roll non escono normalmente? Adesso. Visto che abbiamo appena arrollato due volte Crit Damage. Oggi un buongiorno per portare su un set magari. E fare dei sacrifici. Cosa ci abbiamo da portare su? Diamo un'occhiata. Qua per livello. Noop. Non mi sento di sprecarlo così. Abbiamo un casino in Made in Beloved brutti. Hp con lo schifo. Attacco con lo schifo. E Metal Mastery con lo schifo. Death con abbastanza schifo. Attacco con abbastanza schifo. Quello di poi è Made in Beloved. Tutta sta roba qua non c'è niente da buttare via. No, la nostra teoria è appena andata a quel paese. Ma magari... Magari... C'è questo qui. Crit Rate, Crit Damage. Facciamo dei sacrifici oggi. Sacrifichiamo roba al Random Number God. Tutta roba abbastanza brutta. Quanti mora se ne vanno. Questa tutta nasce di 2 millilit. Ok, ci fermiamo qui. A domani ragazzi. E buon Genshin Venerdì. Che è l'inizio del Genshin Weekend. Genshin. Genshin Weekend. Che è lì. Grazie a tutti.